Poi mi sono fatto un centinaio di chilometri immerso nella nebbia una roba terrificante una due palle e adesso sono ritornato nei miei scenari desertici e mi sono fermato in questo posto dimenticato veramente da tutto non c'è niente è tutto un po' approssimativo però sulla strada c'è questo signore qui che mi farà da mangiare cosa non ho capito credo del pesce fritto bene apriamo lo stomaco ciao ciao beh non andrà neanche tanto male per essere veramente disperso buon appetito ragazzi ho fame grazie